maggio come mai primavera grigia gelida piovosa il centro decentrato della protezione civile della regione veneto lancia l'allerta arancione per i livelli del basso brenta e del bacchiglione nelle prossime ore sono previsti temporali nelle zone montane e pedemontane a vicenza le 33 mila caditoie della città sono sotto controllo ma stanno funzionando bene nel fine settimana c'è girato in via fusinieri la strada è allagata a causa di una griglia sulla roggia riello ostruita dalle ramaglie rimosse dal pronto intervento della protezione civile ramaglie che hanno intasato anche il fossato davanti alle scuole dell'anconetta comandiamo ai privati soprattutto di fare attenzione nella manutenzione di evitare che poi le ramaglie siano lasciate diciamo così nel corso e nei fossati perché questo effettivamente può provocare dei problemi ancora di più con un maggio così piovoso nelle ultime ore anche il livello dell'astichello si è alzato ma è tenuto sotto controllo costantemente il problema però in questo momento sono le coltivazioni compromesse da una primavera invernale danni a tratti anche reversibili credo che sia importante ragionare su una richiesta danni a favore della zona colpita da questi momenti climatici difficilissimi chiederemo alla regione magari un supporto per uno stato appunto di emergenza rispetto a queste situazioni in aiuto dell'agricoltura il presidente della provincia francesco rucco chiede lo stato di emergenza per l'agricoltura vicentina il governatore veneto luca zaia rilancia il tema a livello nazionale penso che sia fondamentale ai giunti a questo punto che a livello nazionale si apre uno stato di emergenza nazionale per l'agricoltura e l'agricoltura sta pagando pesantemente questa partita una partita che non si risolverà con un raggio di sole ormai la primavera se ne andate quindi vuol dire orticole colture a pieno campo frutticole e vigneti come nel nostro caso sono assolutamente se mettono a repentaglio di produzione